Questo programma è offerto da Maria Grazia Modesto, giovane di 25 anni, è morta a Palermo in Largo Cristoforo Colombo, alla Daura, durante lo schianto della sua autovettura contro una cabina dell'Enel. La Fiat Panda, nello scontro, è finita fuoristrada. La giovane è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani dell'infortunistica e i sanitari del 118. I carabinieri di Palermo hanno sequestrato beni per un valore di circa 10 milioni di euro, intestati e riconducibili ad un imprenditore vicino a personaggi mafiosi della famiglia di Villa Abate. Il provvedimento, nello specifico, è stato eseguito nei confronti di Salvatore Arena, già tratti in arresto nel febbraio del 2009 nell'ambito dell'operazione Senza Frontiere. L'attività di indagine aveva evidenziato come Salvatore Arena avesse attribuito fittiziamente al figlio Marco e dal genero Gian Piero Alaimo, entrambi tratti in arresto nella stessa operazione, la titolarità dell'agenzia di scommesse Intralot di Villa Abate, in realtà riconducibile al regente della famiglia mafiosa di Villa Abate Giovanni Dagati, il quale, con tale stratagemma, aveva tentato di eludere le disposizioni di legge in materia delle misure di prevenzione. Salvatore Arena, assolto in secondo grado dopo una condanna in primo grado di un anno e quattro mesi di reclusione, è stato raggiunto dal provvedimento di sequestro in quanto a suo carico sono stati riscontrati indizi idonei a dimostrare che i beni sequestrati costituiscono il reimpiego dei proventi di attività illecite e che le disponibilità finanziarie in capo al proposto non sono compatibili con i redditi dichiarati. Questo provvedimento ha riguardato numerose società e attività commerciali, quali il prestigioso splendore Atelier di Villa Abate ed il noto Bar del Bivio di Palermo, un appartamento a bagheria, due villini, un appartamento ed un terreno a Ficarazzi, oltre a ville, appezzamenti di terreno, autoveicoli e vari rapporti bancari. Non ce l'ha fatta il pensionato di 73 anni, morto dopo 20 giorni di sofferenza. L'uomo in questione, Vincenzo Vitale, era rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto il 21 luglio scorso in via Partanna Mondello, a pochi metri da casa sua. L'uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto da un'automobile. Vitale, dopo l'intervento sul posto dei sanitari, era stato trasportato a Villa Sofia in gravi condizioni e ricoverato con la prognosi riservata al reparto di rianimazione. Aveva riportato traumi in varie parti del corpo, in particolare la testa. I medici hanno tentato sino all'ultimo di strapparlo alla morte, ma alla fine le sue condizioni sono peggiorate e domenica notte deceduto. Problemi a Monreale per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle attività di stumulazione condotte presso il cimitero del paese. L'attività deriva dalle operazioni di spurgo delle tombe più antiche. Il problema però è quello dei resti delle bare, che praticamente restano alla vista di passanti e visitatori. La pratica delle stumulazioni prevede, per le sepolture risalenti a più di 30 anni fa, la liberazione dell'oculo, che deve essere sgombrato anche dalle bare. Queste vengono distrutte e messe in dei grossi sacchi, per essere poi trasportate nei centri di smistamento. La sosta dei contenitori, contenenti i resti delle bare però, sia all'interno del cimitero che all'esterno, si prolunga per diversi giorni, se non per mesi, non solo offrendo un pessimo spettacolo per chi arriva, ma provocando anche la fuoriuscita di liquami, che certo non sono il massimo dal punto di vista igienico-sanitario, soprattutto per via del cattivo odore causato dalle temperature alte di questi giorni. Un problema dunque che si spera si possa risolvere per il bene dei cittadini, che ogni giorno accorrono al cimitero per visitare i loro cari. Grazie a tutti i nostri spettatori, In un ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Manhattan Coffee in the Rink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì. Puoi esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. Agghiacciante il nuovo rapporto della LAV nei confronti delle zoo mafie, tante le persone denunciate e tanti i ritrovamenti di animali conferiti da morsi o deceduti in seguito alle lotte clandestine. Secondo la LAV, inoltre, in aumento sono anche i furti di cani di grossa taglia, tolti ai padroni per entrare poi nel circolo delle lotte clandestine, dove perdono la vita sempre più cani indifesi. La procura di Palermo, per fortuna, si sta attivando per l'applicazione di nuove norme punitive, per cercare così di arginare questo fenomeno. I primi arresti riguardano il quartiere Zendue e in tutta la provincia sono in tutto 195 i provvedimenti penali per reati contro gli animali. La procura, dunque, si sta attivando sempre di più per arginare questo fenomeno. Si spera, quindi, che il lavoro degli inquirenti possa portare ad un buon risultato, per evitare così altri maltrattamenti nei confronti degli animali. Nel pomeriggio di domenica i carabinieri hanno nuovamente tratto in arresto con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti Vincenzo Cinquemani, partigenese di 25 anni, disoccupato, già sottoposto agli arresti domiciliari, poiché è tratto in arresto per lo stesso tipo di reato nelle serate di venerdì e di sabato. Nel corso di un'attività antidroga finalizzata a contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno sorpreso il Cinquemani sull'uscio della propria abitazione, mentre cedeva un sacchetto di plastica ad un giovane minorenne. Prontamente intervenuti, i militari hanno bloccato i due, accertando che nel sacchetto vi erano 33 dosi di sostanza stupefacente del tipo marioana, successivamente quantificate in 52 grammi circa, pronte per essere spacciate. Il giovane pusher è stato sottoposto nuovamente alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Estate, il sole, il mare, il caldo e gli incendi. Che siano dolosi o meno, essi rimangono una piaga che ogni estate affligge la nostra terra. Stavolta gli incendi fanno da sfondo alla vicenda. Un bengalese di 17 anni è stato bloccato dalla polizia a Palermo mentre tentava di appiccare il fuoco alle piante dello spartitraffico in viale della regione siciliana. Il giovane scoperto nel tato pomeriggio di domenica è stato denunciato per danneggiamento. I controlli sono scattati sulla spinta di diverse segnalazioni di roghi tra Leonardo da Vinci e via Belgio, giunte nella sala operativa dei Vigili del Fuoco. Una serie di roghi accesi a distanza di una decina di minuti l'uno dall'altro, incendi poi spenti dai pompieri. In un ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri. Una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano. Giochi pirotecnici, ma anche animazioni con serate canori per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia Spettacoli Match Music di Graziano Silvestri. Coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia Spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152, oppure chiamaci a 329-7274-388, oppure 347-73-13-852. Match Music e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5x1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare Star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri Sovraimpressione oppure cercaci su Facebook, alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire a quest'occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo! Nella fantastica cornice del Castello di Roccella, a pochi passi dal lungomare di Campofelice, accompagnati dalla musica e dal rilassante suono delle onde del mare, Sicilia Antica ha organizzato per oggi, a partire dalla 21, una notte bianca. Sarà un'occasione per far vivere, in una serata straordinaria, il Castello di Roccella, immergersi per una notte in un'atmosfera fantastica, tra musiche, teatro, degustazioni, stelle e la possibilità di partecipare a visite guidate in notturna all'interno del Castello, a cura di Sicilia Antica. Si potranno inoltre gustare vini, formaggi e lumache prodotti e offerti dall'azienda agricola di Prima di Sambuca di Sicilia, dall'azienda agricola San Giovanni di Caltavuturo e dall'azienda Campofelicese, la lumaca Madonita. Sul terrazzo del Castello, poi, sarà possibile utilizzare un cannocchiale per godere da più vicino della vista eccezionale del cielo sopra il Castello. Questo programma è stato offerto da una buona giornata a tutti gli italiani che si stanno godendo le ferie ma che non perdono mai di vista il Meteo.it. Previsioni per martedì 12 agosto 2014. Polifemo porta temperature roventi al centro-sud e sole prevalente più instabile al nord con rovesci e qualche temporale. Ecco il dettaglio. Al nord molte nubi raggiungono i settori alpini per alpini e le medio-alte pianure di Piemonte, Lombardia e Nord-Est qui in serata. Rovesci su queste zone, locali temporali in Piemonte e anche altrove dove le nubi saranno più organizzate. Al centro poche nubità con il sole che domina ovunque e l'anticiclone Polifemo riscalda prepotentemente. Vediamo tutte le regioni. Raggiungiamo le regioni meridionali dove il cielo è praticamente sereno, il caldo veramente rovente su gran parte dei settori. I venti soffiano tutti debolmente da direzioni variabili su tutti i nostri bacini. Temperature previste per questa giornata. Minime in ulteriore aumento su tutte le regioni con valori che saranno compresi tra i 20 e i 25 gradi, qualche grado in meno sulle zone più interne e montuose. Durante il giorno caldo intenso al centro-sud. Ci attendiamo 25 e 31 gradi al nord. Raggiungeremo i 34 gradi al centro con una punta di 36 e 37 gradi al sud. Carissimi, questo bollente aggiornamento si conclude qui. Il tempo cambia. Nubi fragili in arrivo al nord, sempre caldo al centro-sud. Segui il tempo minuto per minuto solo su ilmeteo.it. Sempre con te. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 12 agosto. Si ricorda Santa Giovanna de Chantali. Il nome Giovanna viene dall'ebraico e significa dono del Signore. Veniva imposto ai bambini molto attesi e desiderati. Dice il proverbio, chi vuol vivere sanamente, viva sobrio e allegramente. Sono nati oggi Stefano Benni, Alessandra Amoroso, Mario Balottelli. Il 12 agosto 1851 Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina da cucito. Il 12 agosto 1981 l'IBM lancia il primo esemplare di personal computer. Sarà il capostipite dei PC comunemente usati ancora oggi. Infine, il 12 agosto 1984 si concludono le Olimpiadi di Los Angeles con uno straordinario successo per l'Italia che si aggiudica 32 medaglie, di cui 14 d'oro, 6 d'argento e 12 di bronzo. Epiteto ha detto, non devi cercare di fare in modo che le cose vadano come vuoi, ma accettare le cose come vanno, così sarai sereno. Arrivederci da Barba Nera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762. Martedì 12 agosto. Ariete, il passaggio di Venere in Trigono cancella una breve stagione di dissapori e incomprensioni che aveva steso sul cuore un velo d'ombra. Sta finalmente maturando qualcosa di interessante, ormai si tratta solo di dare alle cose il tempo di consolidarsi. Toro, la luna amichevole oggi vi protegge, ma il passaggio di Venere in aspetto disarmonico preannuncia qualche scricchio di io nella vita sentimentale. L'intuito può aiutarvi a capire gli altri e anche a perdonare, chi ha sbagliato merita un'altra opportunità. Gemelli, nessun ostacolo reale vi rima contro, ma la luna in posizione disarmonica lascia intendere che l'impedimento è dentro di voi. Niente malesseri o arrabbiature, trasfererete la maggior parte del tempo tra le nuvole concludendo poco o niente. Cancro, vi aspetta un bel martedì, attivo e languido allo stesso tempo. La luna in Trigono accende la vostra sensibilità e rende molto godibili con tanti. Un incontro a due sarà dolcissimo e non lascerà amarezza al momento della separazione. Leone, l'evento strepitoso di oggi e all'ingresso di Venere nel segno già dalla mattina, resterà a coccolarvi fino ai primi giorni di settembre. L'astro dell'amore avrà anche il positivo effetto di rafforzare gli aspetti di sensibilità e simpatia. Vergine, luna e Nettuno opposti affondano l'umore, ma è Marti a lanciarvi un salvagente, incitandovi ad agire per rimanere sulla cresta dell'onda. Aiuto consistente anche da Saturno nei panni di un amico di vecchia data che vi consiglia per il meglio. Bilancia, buone notizie in Mista. Dopo lunghi giorni in cui avete dovuto combattere per l'amore, oggi, durante la mattinata, Venere esce dall'aspetto disarmonico. Sul fronte del cuore si apre uno spiraglio che lascia intravedere un bellissimo arcobaleno. Scorpione, in una questione privata, oggi meglio agire distinto, accantonando almeno per qualche tempo una possibile delusione amorosa. Grinta garantita da Marte e sensibilità assicurata da Luna e Nettuno, l'intuito arriva laddove la preparazione è carente. Sagittario è giornata poco piacevole, fondamentalmente per la Luna di Traverso che atterra l'umore. In arrivo però una bella sorpresa, l'armonico aspetto di Venere. Famiglia in primo piano, con tutte le sue piccole gioie, nonché le relative problematiche. Capricorno sarà una giornata fortunata, facilitata dalla Luna amica e anche dall'accessata opposizione di Venere che scioglie in automatico problemi e istruzioni. In crescita anche la capacità di attirarvi le attenzioni e i favori di persone influenti. Aquario, già a partire dal risveglio, vi sentirete un po' come una barca in baria delle onde. La confusione riguarda prevalentemente i progetti amorosi. Le finanze sono sottotono ma è colpa vostra se pensate solo a spendere e non a risparmiare. Pesci tutto va a meraviglia, con la Luna in coppia con Nettuno nel vostro segno e armonica a Marte, Saturno e Plutone. Ottimo mix di grinta e intuito. Se siete a lavoro, date il via a nuovi progetti, mentre in vacanza caldeggiate attività inconsuete. Grazie.